Chiudiamo dunque questa vicenda. Ho fatto solo un appunto ai miei collaboratori perché la trasmissione era lunedì e lunedì in contemporanea c'era niente di meno che il film L'Ultimo Samurai con Tom Cruise. Ma come si fa ad essere così masochisti da andare a vedere la trasmissionaccia anziché vedere L'Ultimo Samurai, meraviglioso, coinvolgente, che meraviglioso. Valga per il futuro. Non siate così depravati da perdervi appresso alle scemenze. Quanti altri autentici eroi ha nella sua lista? E contro chi addestreremo i vostri ragazzi a combattere? Il suo nome è Kasumoto Morizu. È stato maestro dell'imperatore. Di una delle poche persone libere. Samurai. Il divino imperatore Meiji vi dà il benvenuto. Io sono pronto ad accogliere tutte le pecorelle smarrite. Non ho mai visto una simile disciplina. Mi ha sorpreso apprendere che la parola Samurai vuol dire servire. Giornalian bro La parola Samurai vuol dire servire. Grazie a tutti